Come creare un prodotto in abbonamento da vendere su Gumroad e guadagnare? Allora, intanto se non mi conosci, ciò, mi chiamo Massimo, sono un imprenditore digitale, in questo canale parlo di business online, tecnologia e crescita personale. In più ti invito a visitare il mio sito massimopellegrino.net dove trovi la mia Academy di videocorsi e il sito encomdigital.it dove c'è la mia agenzia di digital marketing. Andiamo subito al suoto. Come creare prodotti in abbonamento? Allora, su Gumroad, quindi Gumroad è una piattaforma di e-commerce che permette di vendere prodotti digitali, corsi per classi, e-book, beni fisici, quindi prodotti fisici e un insieme di vari prodotti a un prezzo speciale e poi il discorso in abbonamento che è appartenenza. Voglio creare un prodotto in abbonamento di prova chiamato consigli di business online, lo voglio vendere a 10 euro, vado su appartenenza. A questo punto sta facendo l'aggiunta perché l'avevo già creato prima. A questo punto lui mi porta a questa pagina. Qui metterò una descrizione del mio prodotto, posso farmi aiutare da chat GPT a scriverlo. e a questo punto caricherò l'immagine, questa qui, consigliato il 1280x720 a 72 dpi e il logo, l'icona dell'anteprima del prodotto. Poi andrò a mettere un sommario che posso sempre farmi aiutare da chat GPT per la stesura e successivamente devo andare qui su livelli, gli diciamo... Ok, livello... No. Abbonamento mensile standard, lo chiamiamo. Non serve nessuno... Ok, livello, numero massimo di sostegno interattivo è infinito, si possono creare anche più prezzi, più livelli, si può anche permettere di fare il pagamento, per esempio, semestrale, quindi 60€, si può anche il pagamento di tre mesi o il pagamento annuale. Ok? Permettiamoli entrambi. Ok. Si possono aggiungere diversi livelli, se vogliamo fare un abbonamento con più livelli in base a quanto pagano. Poi, posso pubblicare questi prodotti, mi avranno accesso tutti i post che ho pubblicato. Benissimo. Poi, frequenza di pagamento mensile. A questo punto basta andare su contenuto, posso mettere qui il contenuto, ora indirizzarlo al mio sito web. Possiamo anche usare tranquillamente questo editor, no? Per esempio, noi possiamo anche andare su chat GPT e scrivergli, scrivimi 10 consigli utili per fare business online in modo sicuro e profittevole. riscrivilo. Mettiamoci più lungo e con le emoji che rendono anche la lettura più gradevole. ok, stiamo creando questi 10 consigli da mettere in abbonamento. benissimo, prendiamo questo, andiamo a metterlo qui su Gumroad, poi, poi andiamo a dirgli, sviluppa il punto 1, e andiamo a sviluppare tutti i singoli punti, no? Per creare comunque una newsletter corposa con tutti, con tutti i punti, ok? Quindi copiamo, scriviamo, punto consiglio numero 1, consiglio numero 1, incolliamo, oppure vedete c'è già scritto 1 qui, quindi non serve, e così via. A questo punto, per esempio, qua scriveremo, sviluppa il punto 2, molto bene, quindi sta sviluppando il punto 2, ha finito, a questo punto facciamo un bel copia, e lo incolliamo sul nostro Gumroad, ovviamente hanno trattato, eccolo lì, punto 2, leviamo questo chat, molto bene, e così via. a questo punto, a questo punto, avremo, diciamo, condiviso, faremo pubblica e continua, adesso, annullo la pubblicazione, perché ovviamente è un coso di test, però in questo modo, noi abbiamo creato, un abbonamento mensile, per il quale sarà possibile ricevere, dei post, quindi se io faccio pubblica, ok, qui possiamo anzitutto, mettere gli impostari, la categoria, per esempio, affari e denaro, vediamo un pochino, andiamo a cercare qualcosa, affari, vediamo un po', finanza, eccolo lì, imprenditoria, risorse, per esempio, qua andremo a mettere, per esempio, cinque tag, indicami, cinque tag se ho per, da un ruolo da inserire, lui sta andando, sta facendo più di quello, indicami, cinque keywords, ok, strategie di marketing, vabbè, ok, qui andremo a metterci, le nostre keywords, e a quel punto lì, potremo andare a salve, e avremo il nostro prodotto, creato, ok, cosa succede, che, potremo andare a effettuare anche una nuova email, potremo anche dire di andare a selezionare il prodotto, e per quel prodotto, e per chi ha acquistato questo prodotto, andremo a creare una mail, una newsletter, che periodicamente invieremo, ok, e quindi questa, cioè, è una figata, no, perché capite che, riusciamo a inviare, veramente, in modo semplice, fare tutto con Gumroad, in 448, cioè, possiamo creare dei prodotti innamoramento, anche 10 prodotti, nel giro di un'ora, ci mettiamo lì, creiamo le immagini, i loghi, i contenuti, con chat GPT, e quindi riuscite a, crearvi questo giro, ovviamente dovete avere una community, che vi segue, e quant'altro, però perché no, uno magari chiede, fate dei piccoli abbonamenti, anche da 3 euro al mese, 5 euro al mese, magari fate dei contenuti, belli corposi, di materiale utile, perché dovete fornire, del materiale che serva, veramente, ovviamente vi invito anche, a visitare, ne approfitto, già che stiamo parlando, il mio sito web, massimopellegrino.net, su cui trovate l'accesso, alla mia academy di corsi, forniamo anche servizi di consulenza, abbiamo dei corsi, diciamo, base, per chi parte da zero, per scrivere libri con intelligenza artificiale, venderli su Amazon, fare le campagne pubblicitarie, su Amazon, per i libri, tra l'altro abbiamo anche, aspettate che aggiorno la pagina, ok, abbiamo anche l'offerta, dove diamo anche un libro, scritto con intelligenza artificiale, pronto da vendere su Amazon, completo di copertina, abbiamo il corso, per riparare da zero, aprire un canale YouTube, quindi per chi non è capace, a fare nulla, con questo corso impara a creare il canale YouTube, fatto bene, con le parole chiave, creare la filigrana, creare i loghi, sapere utilizzare la SEO, e saper anche creare dei video, grazie all'intelligenza artificiale, se non volete metterci la faccia, e poi il corso per imparare a creare base, ovviamente per chi parte da zero, per creare un sito web e un e-commerce, quindi per vendere sia i tuoi prodotti fisici, piuttosto che prodotti in affiliazione, infatti, poi tutti i corsi sono acquistabili da noi, a 299 euro, invece di 597 euro, o li acquisti singolarmente, in totale fa 597 euro, oppure prendi il pacchetto completo, a 299 euro, poi abbiamo dei servizi di copywriting, con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, e la nostra academy di corsi, si basa sia col pacchetto di tre corsi, o con altri servizi aggiuntivi, questo qua da 299 euro, ti diamo anche 10 libri scritti con l'ausilio dell'IA, 5 video in Cash Call Channel, per il tuo canale YouTube, un blog pronto, chiave in mano, con dominio gratuito, completo di 5 articoli, scritti appositamente per te, ottimizzati in ottica SEO, per spingere i tuoi prodotti, o i prodotti in affiliazione, e quindi è il pacchetto di corsi, per tutti i corsi che sono inclusi, nel pacchetto dell'academy, c'è specificato per file per segno, le lezioni che sono contenute all'interno, quindi non è che ci nascondiamo, dietro un pilastro, qui c'è scritto esattamente tutto, e ovviamente, come spieghiamo anche nel corso, diamo la possibilità di diventare, nostri affiliati, e l'affiliazione con noi, è tramite Gumroad, ok? Infatti, su Gumroad, noi abbiamo i nostri prodotti, dove i prezzi, li vedete un po' più bassi, perché sono IVA esclusa, perché poi Gumroad, ti addebita l'IVA al cliente finale, se voi vendete i nostri, diventate i nostri affiliati, che vi accettiamo la richiesta, vendendo i nostri prodotti, prendete il 10% sulle vendite, al netto delle commissioni di Gumroad, e al netto di IVA, ok? quindi, perché no, diventate i nostri affiliati, in più noi, durante il corso, quello per creare e-commerce, quindi su MoneyWeb, ti insegniamo, anche, a creare, un sito web, per esempio, creeremo nel corso, un sito web di formazione, che è questo, dove ti insegniamo a vendere, per esempio, i nostri corsi in affiliazione, ok? Quindi, come tu puoi vedere, questo corso qui, se fai acquisto a prodotto, vieni rimandata alla pagina, ok? Noi ti insegniamo a creare, proprio l'e-commerce, gratuitamente, quindi che non hai canoni, poi se vuoi, ti puoi comprare un dominio a pagamento, tipo tuonome.it, quello che vuoi, e questo sito, lo andiamo a creare, proprio durante il corso, MoneyWeb, ok? Quindi, ti invito a, visitare il sito, massimopeleguino.net, e soprattutto, ti invito anche, a visitare il sito, della nostra, agenzia di digital marketing, ok? Forniamo un sacco di servizi, facciamo siti web, e-commerce, campagne pubblicitarie, su Facebook, Instagram, apriamo e-commerce, anche su Shopify, apriamo canali YouTube, da zero, poi se vuoi aprire un canale YouTube, da zero, che non sai come fare, puoi farti il nostro corsino, direttamente, col corso TubeCash, ma ovviamente, ti consiglio di prendere, cioè, tutti i tre corsi, 299 euro, contro un corso a 199, poi ovviamente, con questo pacchetto qua, ti diamo i libri, e ti facciamo i cinque video, ti diamo un blog, insomma, è un servizio completo, però, sta a voi. Quello che noi ti vendiamo, è scritto qui, ci sono tutte le lezioni indicate, del corso, e comunque, nel, nei pacchetti, nei vari pacchetti, c'è specificato, andando all'interno, che cosa vai ad acquistare, ok? Perché ci sono anche indicate, tutte le lezioni, anche qui, quindi, nero su bianco, di quello che c'è, poi ovviamente, abbiamo, i vari servizi, da noi offerti, perché abbiamo, vedete, qui abbiamo, per esempio, i servizi di Ghostwriting, quindi dove ti scriviamo i libri, ti scriviamo un libro a 99 euro, 10 libri a 699 euro, 15 libri a 999 euro, abbiamo fatto un pacchetto di libri, anche da 50 ce l'hanno richiesto, 2.990 euro, ti scriviamo 50 libri, con l'intelligenza artificiale, da vendere su Amazon, libri di 100 pagine l'uno, quindi, insomma, ne vale la pena, e poi qua abbiamo i nostri libri, e poi i vari servizi, no? Perché noi offriamo, cosa succede? Abbiamo anche, il discorso di, gestione dei social media, quindi, vuoi che ti gestiamo i social? Nessun problema, vai qui, abbiamo diversi pacchetti, due post a settimana, un post a settimana, e vari pacchetti, fino ad arrivare, a 999 euro, partendo da 149, lo stesso, e sono pacchetti in abbonamento mensile, che puoi disdire, quando vuoi, lo stesso, è per il discorso del copywriting, e poi abbiamo il discorso, per creare siti web, ed e-commerce, quindi questo, questo qui, è il copywriting, se vuoi che ti scriviamo, gli articoli nel blog, nel tuo blog, ti aiutiamo noi a scriverli, e qua c'è l'acquisto dei vari servizi, tipo, vuoi un sito vetrina col blog, vuoi un e-commerce, su WordPress, vuoi un sito web, semplice, ok? Con 999 euro, ti facciamo un sito web, con, 1199 euro, ti facciamo anche la sezione blog, e insomma, e via discorrendo, e poi abbiamo l'e-commerce, che partono da 1699 euro, insomma, puoi acquistarci tutti quei servizi, direttamente qui, puoi pagare con PayPal, perché ti diamo la possibilità, ovviamente, di pagare anche con PayPal, in modo che, sia anche tutelato sul tuo acquisto, e niente, quindi, vienici a trovare, trovi tutti i link in descrizione, nei commenti, e io spero che questo consiglio, che vi abbiamo dato, per i prodotti in vendita, su, in abbonamento, su Gumroad, ti possano essere stati d'aiuto, mi raccomando, dateci dentro col business online, il 2024, è l'anno dell'intelligenza artificiale, già lo è stato il 2023, ma quest'anno ne vedremo delle belle, delle belle, preparatevi, andatevi a vedere anche il video, dove ho fatto, ho creato un influencer finta, che non esiste, dove ho creato varie, proprio, gli ho creato proprio le storie, per poi mettere su OnlyFan, su Instagram e quant'altro, vi invito ad andare a vedere i video, che ho avuto tra l'altro, un dischetto successo, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima puntata, ciao!